Il fantasma dell'opera. Fin da bambina, Christine Daé, una bella ragazza con i capelli biondi e gli occhi azzurri, viaggiò in tutta Europa con suo padre, un grande musicista. Christine amava cantare. Suo padre le raccontava sempre molte storie sull'angelo della musica, la personificazione di ogni ispirazione musicale. Christine amava le storie di suo padre che la ispiravano a continuare a praticare il canto. Cantava davvero splendidamente. Quando arrivarono a Parigi, Christine incontrò un giovane ragazzo di nome Raoul. Dal momento che entrambi amavano la musica, diventarono grandi amici. A Christine piaceva molto e Raoul ricambiava il sentimento. Ma il padre di Christine doveva continuare i suoi viaggi in giro per l'Europa, così Christine dovette dire addio al suo caro amico Raoul e riprendere il suo cammino. Dopo molti anni Christine tornò a Parigi. Si era trasformata in una bella donna con una bella voce e le era stata data una posizione nel coro, presso il teatro dell'Opera di Parigi, che si chiamava Palais Garnier. Ebbe subito un buon impatto con gli sguardi mozzafiato e la sua voce celeste e ben presto cominciò a sentire una bella voce che le parlava, dandole consigli sul suo canto. Sei l'angelo della musica? chiese Christine. Certo, rispose la voce, e io ti insegnerò un po' di musica del cielo. La voce però apparteneva a Eric, uno strano genio della musica che aveva sempre vissuto nel teatro ed era chiamato il fantasma dell'Opera. I giorni passavano e Christine rimase incantata dalla voce misteriosa che inconsapevolmente la portava a cantare meglio. Una notte la separava dal suo debutto. Christine trionfò al Galà e raccolse un sacco di applausi da parte del pubblico. Il suo vecchio amico d'infanzia Raoul era andato a teatro per ricordarle il suo amore. Raoul andò incontro a Christine più tardi e i due parlarono per molto tempo. Erano ancora molto affezionati l'uno all'altra. Nascosto a guardare tutto, c'era Eric. Qualche tempo dopo la serata di gala, il teatro dell'Opera di Parigi eseguì Faust, ma contro la volontà di Eric, la parte principale fu data alla prima donna Carlotta e non a Christine. Arrabbiato per le decisioni dei gestori, il fantasma cominciò a perseguitare Carlotta, che si spaventò e perse la sua voce. Egli tagliò poi la corda del grande lampadario che crollò in mezzo al pubblico. In mezzo alla confusione Eric rapì Christine e la portò nella cantina del teatro dove viveva, rivelandole la sua vera identità. La voce di Eric era affascinante e Christine cominciò a essere attratta dal suo rapitore. Christine si avvicinò delicatamente a Eric. Gli tolse la maschera, ma con suo orrore la sua faccia era mostruosa. Guardando il volto spaventato di Christine, Eric fuggì via piangendo. La notte seguente, durante un'altra produzione del Faust, improvvisamente una grande nuvola di fumo apparve e le luci furono disattivate. Eric saltò sul palco e ancora una volta rapì Christine. Tu mi sposerai Christine, disse Eric, o distruggerò con dell'esplosivo l'intero teatro. Christine dapprima rifiutò, ma quando si ricordò che Raul era tra il pubblico, accettò di sposare Eric. Eric sollevò la maschera per baciarla sulla fronte, ma invece si sentì restituire il bacio. Non ho mai ricevuto un bacio, le disse, neanche da mia madre. Sopraffatto dall'emozione, disse a Christine, vai angelo mio e sposa il tuo Raul, so che lo ami. Christine scappò dal suo amato Raul, che sposò poco tempo dopo. Pensò molte volte al fantasma, ma non fu mai più visto, anche se alcune persone dicono che ancora oggi si aggiri nei pressi del teatro dell'Opera di Parigi. Fine